Ci sono alcune sentenze della Cassazione che condannano dirigente, docente e personale scolastico perché ci sono stati gli infortuni all'uscita da scuola. Questo chiaramente vi ha obbligato a prendere delle contromisure. Le sentenze di recente emanate hanno sollevato la questione e ognuno di noi come dirigenti sta cercando di intervenire su una consuetudine che era inappropriata che è il rientro a casa da sole dei ragazzi in particolare dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado. C'è stato un consiglio d'istituto, poi ci sarà un'assemblea con i genitori e dal 16 ottobre i ragazzi che devono uscire delle medie da questa scuola devono essere prelevati o dal genitore o da chi ne ha la deroga praticamente. La definizione del 16 ottobre è stata una mia autonoma scelta al fine di prendere quel tempo dovuto perché i genitori potessero consegnare le deleghe nel caso che fossero impossibilitate in prima persona a ritirarli. Ovviamente fino al 16 stiamo molto più serrati sulla vigilanza degli stessi e dal 16 i bambini, i ragazzi che sono senza deleghe saranno eventualmente trattenuti in attesa e vigilati inizialmente dal docente e poi da collaboratore scolastico che interrompe di fare le pulizie in attesa che gli stessi vengono ritirati da maggiorenni o dagli stessi genitori. Si cercherà chiaramente anche di fare in modo che arrivino più facilmente a prelevare i bambini? Sì, ovviamente contestualmente ipotizzando le difficoltà che possono sopravvenire in un'organizzazione che vede un movimento di persone notevole all'uscita delle lezioni, dell'orario delle lezioni, ho richiesto un divieto provvisorio di transito nella via Moscati che è la via nella quale è posizionata la scuola secondaria Torrione Alto, la richiesta anche della presenza di vigili urbani e o dei non indivisa. Nel caso in cui non arrivi nessuno a prelevare il milone, che succede? Beh, ho previsto una tolleranza di un paio di volte perché l'imprevisto organizzativo di un genitore avviene, ma ha una tolleranza fino a 30 minuti rispetto all'orario di uscita per due volte. Alla terza inevitabilmente devo comunicarlo alle forze dell'ordine che a sua volta preleverà il minore e lo porterà a casa. Se si reitera si segnalerà al Tribunale dei minori.